Non c'è lavoro, soprattutto per i giovani. La narrazione è vera, ma solo in parte. Sono scomparse le professioni polverizzate dal progresso tecnologico. Il problema è che lati danno le competenze necessarie a praticare quelle di nuovo conio. Colpa o merito dipende dai punti di vista della cosiddetta rivoluzione digitale. Tanti vanno in cerca di un mestiere che gli consenta dignitosamente di campare, un tasso di preparazione specifica neanche lontanamente immaginabile solo pochi anni fa. E poi ci sarebbe un altro aspetto della questione che non andrebbe sottovalutato. Gli studenti di materie umanistico e letterarie purtroppo non consente di mettere insieme il pranzo con la cena. Se ne deduce che continuare ad iscriversi in scuole pure prestigiose come il liceo classico e il liceo scientifico per poi magari iscriversi in facoltà come scienze della comunicazione o lettere potrebbe volete dire andare incontro a un destino di disoccupato a vita. I cambiamenti vanno cavalcati ammaestrandosi in quelle professioni legate alle tecnologie avanzate. Penso all'e-learning o alla figura del social media marketing, a quello dell'esperto di mercati azionario e di designer di hardware, allo sviluppatore di videogiochi per dire, o al project manager, al programmatic manager, vero al big data specialist. E da queste parti, qui in provincia di Frosinone, per capirci che area tira? Un'area non proprio salubre. Nella nostra provincia il tasso di disoccupazione è pari al 16,8%, quello giovanile del 47,5%. Ciò vuol dire forse che i sociali tra i 15 e i 29 anni si girano i pollici tutto il giorno perché non hanno voglia di faticare? Niente affatto, forse, in secondo la chimera del posto fisso e dello stipendio statale risicato ma sicuro? Probabile. Il problema è che anche qui, come nel resto d'Italia, la più parte dei senza lavoro, soprattutto giovani, non riesce a trovare un'occupazione perché sprovvista delle professionalità necessarie. Nella nostra provincia, in altri termini, scarseggiano le cosiddette nuove professionalità.